Il primo punto stampa dell'Ulss 7 a Bassano da inizio anno è anche l'occasione per fotografare la situazione dei ricoveri e la gestione di questa fase della pandemia, una fase che stando ai dati odierni conferma una curva complessiva in leggero calo. Ma è anche l'occasione per portare alla direzione generale la voce dei cittadini di quelli che non smettono di segnalare e segnalarci problematiche come quelle inerenti alla difficoltà nel prenotare i tamponi molecolari e rapidi sul sito dell'Ulss 7. Sicuramente migliorerà la situazione. Che cosa sta avvenendo oggi? Prima facevamo accesso libero ai punti tampone, quindi c'erano le code, c'era la gente arrabbiata, poi abbiamo invece fatto un sistema su prenotazione e accade invece l'inverso, accade che gente che si prenota poi il tampone non si presenta e si creano dei buchi. Buchi che l'Ulss 7 deve tappare perché navigando nella tempesta Covid non ci si può permettere di imbarcare altra acqua. L'eco delle segnalazioni di Rete Veneta è arrivata anche in Regione che dal 24 gennaio attiverà una nuova piattaforma per migliorare il servizio di tracciamento e di gestione dei contatti. Questa piattaforma permetterà al cittadino che gli arrivi un sms quando c'è una positività riscontrata con tampone in farmacia o in qualsiasi posto e lui può interagire direttamente con l'azienda non solo per comunicare se ha dei sintomi o è sintomatico come per fortuna la maggior parte perché è vaccinata e quindi anche poi di prenotare il tampone per il rientro al lavoro una volta accertata la negatività. Sul fronte delle vaccinazioni questo sarà un weekend straordinario a Bassano, Schio e Asiago per incrementare le somministrazioni ai bambini e sulla questione relativa alla scelta di avere contemporaneamente due ospedali Covid, Sant'Orso e San Bassiano, il direttore generale Carlo Bramezza apre alla linea indicata da voi e da noi di Rete Veneta. Con questi numeri, due terapie intensive a Bassano e sei a Sant'Orso, presto riavremo un San Bassiano Covid free. C'è stata una riorganizzazione interna e tutti i medici, perché appunto sono medici, si sono occupati del Covid. È chiaro che adesso quando la situazione andrà a finire recupereremo subito l'organizzazione di prima. Una decisione che in molti sperano e chiedono venga presa il prima possibile.